Ciao a tutti, mi vedete con lo stesso trucco e lo stesso look di un altro video perché oggi ho intenzione di registrarne qualcuno in più, avendo un po' di tempo libero e come avrete letto dal titolo, si tratta di un video sull'interpretazione dei sogni, ho aperto un po' di tempo fa questa rubrica con un'introduzione che vi lascio qui nelle schede, andate a vedere anche quel video se ancora non lo avete fatto. Oggi proseguiamo perché la rubrica sembrava interessarvi, sembra comunque aver raccolto un discreto successo. Quindi oggi utilizzeremo invece questo libro, il dizionario illustrato dei sogni. Mentre la volta scorsa abbiamo parlato di Freud facendo un'introduzione generale all'argomento, stavolta ci occuperemo dell'interpretazione di alcuni simboli. Secondo questa scrittrice vi avverto che non sarà un video didattico assolutamente, ma un video molto molto leggero che avrà principalmente lo scopo di farvi rilassare. Quindi come al solito mettetevi comodi e lasciatevi guidare dalla mia voce. Vi do qualche informazione sull'autrice del libro. Laura Tuan ha studiato sanscrito e religioni orientali e si occupa di interpretazione dei sogni, divinazione, medicina alternativa, astrologia e occultismo in genere. Ha pubblicato numerosi libri in Italia e all'estero. Ok, le illustrazioni di questo libro sono veramente molto particolari. ve ne mostro alcune. Guardate che bella. Questa mi piace moltissimo. Che ve ne pare? allora, che cosa sognate più spesso? Cosa vi capita di sognare? Scrivetelo giù nei commenti in modo che la prossima volta io possa scegliere alcuni di questi simboli e proseguire la rubrica. Sempre che vi piaccia fatemelo sapere lasciando un video. non mi piace, mi raccomando. Se sì, ovviamente. Io sogno molto spesso il mio esame di maturità. O meglio, sogno di dover affrontare nuovamente l'esame di maturità e di non essere preparata per farlo. Di non aver fatto in tempo a studiare o di essermi resa quanto tardi. del fatto che ci sarebbe stato un esame. Non ho idea di che cosa voglia dire. Però potremmo provare a cercare la parola esame o scuola. esame. Allora, ci sono tre numeri. Forse per chi vuole giocare all'otto, ma io non gioco. e poi c'è il significato divinatorio e poi c'è il significato psicologico. I numeri sono 8, 44 e 80. Significato divinatorio. È un sogno profizio che assicura successo al dormiente, specie se l'esame sognato è in realtà già stato superato. Significato psicologico. Questo sogno, abbastanza comune per chi abbia compiuto gli studi superiori, si ripresenta ogni qualvolta il soggetto vive a una situazione di ansia per una nuova prova da superare. Abbastanza tipico nei giorni immediatamente precedenti al matrimonio, denota una garante fiducia in sé. C'è un'altra persona che mi ha scritto di sognare spesso all'esame di maturità. Non so se a voi capita. Comunque so di non essere l'unica ad avere questa specie di similparanoio. E in effetti è vero che si ripresenta specialmente quando devo affrontare delle situazioni complesse che mi mettono alla prova. Vediamo se esiste la parola scuola. Tra i simboli. Guardate che bello. Questo illustratice è veramente bravo. Sì, scuola. Allora, i numeri correlati sono il 3, il 7 e il 60. Significato divinatorio. Sognare di trovarsi in una scuola affollata prevede esperienze spiacevoli, disturbi e seccature. Condurvi dei bambini, denota buona cura dei propri familiari. Entrarvi presagisce fatica. Significato psicologico. La scuola rappresenta il primo conflitto sociale, i doveri, i rimproveri. Rivela nel sogno una necessità di impegno, di maggiore autocontrollo e disciplina. Fantastico. E vediamo anche studio, visto che ci siamo. I numeri correlati sono il 6, il 17, il 29 e il 77. Significato divinatorio. Sognare di interpretare nuovi studi presagisce gioia di lunga durata. Studi finalizzati a funzioni pubbliche sono però indice di dolore, tormenti e lunga attesa. Qui non c'è il significato psicologico. Comunque direi che questo è meno in linea in realtà con gli altri significati. Leggiamo un altro simbolo e poi chiudiamo qui questo primo video in modo che possiate scrivermi qui sotto i vostri sogni. E nella prossima puntata diciamo sceglierò appunto uno, due o tre di questi sogni. Vediamo un po'. E cercherò di interpretarne il significato aiutandomi anche con questo libro. L'ultimo simbolo che voglio leggervi è La lampada corrisponde ai numeri 71 e 72 Oggi la lampada accesa promette passione amorosa, belle notizie, eventi felici, soluzioni di problemi, spenta, indica invece ricordi penosi, dimenticanze, ingratitudine, antipatia e disperazione. Tenerne una in mano accesa nonostante la luce del giorno, pronostica e allontanamento dagli affari, sul capo passioni dolorose, dotata di coprilampada un amore scordato, rotta bene amorose o secondo altre chiavi fortuna imprevista, priva di vetro, rottura di un rapporto, molte lampade assicurano piacere. La lampada nuova è pronostico di speranza, vecchio, di separazione da amici. La scuola freudiana assimila la lampada alla passione amorosa e ruento, ma circoscritta nel tempo, quella junghiana le attribuisce il significato di illuminazione e di vita eterna. Ok, ricordatevi di commentare qui sotto allora e di farmi sapere se volete che questa rubrica continui. Io vi mando un abbraccio come al solito, noi se vi va, ci vediamo nel prossimo video. Un bacio! Mi piace talmente tanto il tag che l'ho così finito. Allora, seconda barretta, vediamo.